allora se non vogliamo condividere questo video e lo vogliamo solo copiare e andarselo a trovare in qualche posto ad esempio su google io lo apro eccolo qua praticamente questo era sulla mia pagina facebook ascoltiamolo bene allora seguite il mio procedimento perché probabilmente non vedete l'operazione tasto sinistro andiamo qua passiamo sopra bene una volta fatto tasto destro si apre la schermata sotto tasto sinistro copia andiamo su google adesso tasto destro incolla con il tasto sinistro andiamo a vedere ecco apriamo ecco la stessa identica cosa ad esempio adesso io ritorno su google non copio più ma incollo direttamente con il tasto destro adesso incollo con il tasto sinistro si apre la schermata tasto sinistro incolla ritorno su google eccolo qua io lo ripeto all'infinito chiudo lascio anche la musica a vostro piacere spero che mi sia anche utile quello che faccio e non ditemi che non sono molto facile perché troppo gente mi piace ma io non ci riesco è facile è facile saluto a tutti da Gino saluto a tutti saluto a tutti